Pan & Co. si basa principalmente su due punti fermi. Il primo è la qualità dei prodotti, infatti i nostri impianti di produzione sono certificati IFS e una caratteristica dei nostri prodotti è che contiene lievito madre naturale e nessun additivo artificiale. L'altro punto fermo per quanto riguarda le tipicità dei nostri prodotti è l'innovazione. Infatti lavoriamo molto nel cercare di offrire prodotti che siano particolari, quindi abbiano un forte impatto per quanto riguarda la caratterizzazione dell'assortimento dei nostri clienti, quindi lavoriamo molto sia sugli ingredienti che sulle forme dei prodotti. Per quanto riguarda la presenza sul mercato Pan & Co. è presente sull'intero territorio nazionale. Le nostre consegne vanno dal Trentino Alto Adige fino ad arrivare in Puglia. Il nostro magazzino principale si trova a Verona, da lì vengono organizzate poi le consegne verso tutti i nostri clienti. Abbiamo una capillarità, infatti riusciamo a raggiungere qualsiasi provincia, regione italiana, anche con piccoli quantitativi che si va dal pallet monoprodotto fino ad arrivare alla consegna di pochi cartoni. Quindi la nostra offerta può essere interessante sia per quanto riguarda la grande distribuzione, ma anche per quanto soddisfa le esigenze del canale Oreca. Recentemente abbiamo anche sviluppato una serie di prodotti pensati per l'Oreca, quindi cartoni più piccoli con un quantitativo minore di prodotto all'interno e addirittura mix di prodotti in modo da accontentare anche clienti che hanno la necessità di avere più prodotti ma hanno una limitata capacità di stoccaggio di prodotti sul gelato. Grazie per la visione!